benvenuti a tutti in questo nuovo video in questo secondo video da come avete letto dal titolo sto per spacchettarvi un ordine di temo il secondo ordine che mi è arrivato temo che sia arrivato il momento sto per spacchettare il secondo ordine che mi è arrivato quindi in questo video vi faccio vedere l'ordine che ho effettuato il secondo ordine che ho effettuato e tutti gli articoli che ho acquistato sul sito essendo iniziato settembre e quindi volendo fare anche un po un back to school ho ordinato dei prodotti che secondo me sono molto utili sia a scuola o per chi comunque adora la cancelleria e ho fatto un po di mix di queste cose perché volevo proprio provare anche un altro lato del sito perché sapete che temo è un'app nata nel 2022 a boston nel massachusetts e da allora è l'app numero uno al mondo più scaricata quindi ci sono un sacco di persone che acquistano su temo io personalmente nello scorso video vi avevo fatto vedere il mio primo ordine sono rimasta molto colpita da in realtà la qualità dei prodotti nonostante il prezzo basso dato che ultimamente si sta parlando tanto di questa app non voglio entrare in merito perché questo è un video semplicissimo unboxing se avete delle cose da dire riferitevi direttamente al sito io sono una semplice persona che vi porta sul canale contenuti diversi come sempre fatto quando acquistavo in giro o online questo è un semplicissimo haul quindi faccio questa premessa perché non voglio entrare in merito in questa discussione non avendo appunto una base ufficiale concreta per poter affrontare questo argomento ma vi dico che lato mio personale mi sono trovata sempre bene e non solo io perché al di là di gloria ci sono tante altre persone che conosco che hanno acquistato su temo e si sono trovate bene non hanno avuto nessun tipo di problema però in questo video appunto voglio solo farvi vedere i miei ordini vi ricordo che come nell'altro video c'è un codice sconto quindi un ulteriore sconto su prezzi che già trovate scontati sul sito e sull'app potete scaricare l'app di temo sull'app store oppure effettuare gli ordini direttamente dal sito comunque qua vi faccio vedere più o meno come funziona l'app oltre ad avere temo prezzi molto convenienti ci sono sempre molti sconti io spesso sbircio sull'app per vedere insomma quali sono le offerte del momento e capire che cosa posso trovare di scontato qualora mi potesse servire come appunto è stato nel precedente ordine mi servivano ad esempio delle casse per il computer e tante altre cose per la mia scrivania le trovate a prezzi convenienti avrete ovviamente la possibilità di pagare successivamente e di effettuare un pagamento anche rateizzato perché ci sono un sacco di opzioni sul sito la spedizione gratuita e potrete anche effettuare i resi io direi di iniziare subitissimo facendovi vedere il mega pacco che mi è arrivato che è più grande di me ovviamente se avete domande in merito sempre con educazione vi invito a scrivere nei commenti se invece non avete educazione vi invito ad andare via dal mio canale altrimenti cancellerò i commenti nell'ultimo video ci sono state delle persone poco gentili e poco rispettose ad aprire un discorso in modo educato insomma quindi vi invito sempre ad utilizzare educazione sul mio canale e per il resto pace e amore a tutti quanti direi di aprire no vabbè pacchi chiusi stra bene iniziate da questo vedo già cose carine apriamo il primo pacchetto il primo prodotto che vado a spacchettare non vedevo l'ora di vederlo perché vi giuro stracuriosa è arrivato un po schiacciato ma spero di poterlo mettere in bolla è una medusa ce n'erano di tanti colori queste cose per me sono una fonte di ispirazione nel crearle a modo mio sapete che a me piace un sacco mettermi dietro a creare con l'art and craft un sacco di cose nuove che magari non voglio comprarmi e posso creare io questa cupola di questa medusa ha subito un po di danni è stata travolta da uno tsunami come potete vedere togliamo questa cosa per proteggere le batterie e proviamo ad accenderla eccole oh mio dio che tenere questa è la medusina colorata ragazzi è troppo carina come sempre trovate nell'info box anche tutti i link dei prodotti che ho acquistato poi qua in mansarda avendo le travi di legno è carinissima anche da appendere secondo me creerà un bell'ambiente di notte si possono tenere anche fisse bellissima sì a parte la cupoletta un po rovinata però mi piace tantissimo voto 8 perché è arrivata un po rovinatina avrei fatto la cupola forse non in plastica apriamo il secondo prodotto questo pacchettino qua ah sì oddio che carino questo blocchi notice questo qui è un cartoncino tipo del latte però in realtà è un bloc note su un porta bloc note e a quanto pare si apre da qua schiacciando escono i post it ok si stacca dai che carini e sono tutti uguali sì molto comodo quando si vuole appuntare l'idea del momento oppure i reminder io lo infilo dentro di nuovo perché non voglio rovinarli dai anche questo è molto carino da tenere sulla scrivania sempre dalla serie cose kawaii da tenere sul computer e in modo che quando mi siedo e lavoro vedo tutte cose pucciose e sto bene semplicemente queste tra l'altro le cercavo perché come vi ho detto anche nell'altro video sono un po malata di queste cose kawaii di queste scrivono tutte queste faccine le fragoline tutti i fruttini disegnati in modo carino tutti i colori pastellosi sono molto fissata da anni perché se vi ricordate quando facevo le agende vecchi video anche lì già ero fissata con tutta la cancelleria quindi adesso aumenta ancora di più finalmente posso averle anch'io queste cosine perché le vedevo solo online non trovavo siti dove vendessero queste cose back to school proprio qui è che carino no vabbè questo è un astuccio a forma di tubetto lo immaginavo molto più piccolo onestamente nella parte del tubetto c'è un temperino bellissimo c'è un temperino qui qua la zip con all'interno il nulla cosmico perché ovviamente metterete le vostre penne il vostro astuccio sarà unico cioè veramente bellissimo bellissimo è fatto anche abbastanza bene nel senso non è cucito male il materiale bello anche la parte qui della zip ha un cuoricino veramente molto molto carino questa cosa del temperino sto facendo continuamente rime lo so sta piacendo tantissimo non me lo ricordavo sul sito che ci fosse il temperino non ho dato il voto di questo ma direi un bel 9 fatto benissimo e anche questo gli do un bel 9 perché non me lo immaginavo così grande e fatto veramente bene ripeto questa storia del temperino mi ha sorpreso passiamo poi a quest'altro prodotto questo praticamente è un poggia telefono io sparco tutto non mi ricordo di averlo ordinato bianco forse avevo deciso all'ultimo bianco perché c'era rosa forse il rosa era finito e allora avevo scelto il bianco comunque vabbè che questi vanno qua per tenere il telefono ma qua sono un po stupida io a montare le cose perché c'è veramente ho un deficit ma che tenero questa si regola su e giù e anche questo su e giù bellissimo comodo semplicissimo potete tenerlo per così o per così l'unica cosa che non ricordo se alla fine l'ordinato bianco apposta io è arrivato bianco io l'avevo ordinato rosa anche abbastanza solido direi anche questo un bel 9 e mezzo la parte dove tiene il telefono è molto morbida anche qua mi piace tantissimo perché almeno non scivola e ha un'ottima presa ah 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 mio fratello ultimamente molto fissato mio fratello e mia nipote sono molto fissati con il giappone ma a livelli estremi ok soprattutto per il cibo tante cose della cultura giapponese affascinano tante persone me compresa soprattutto la cosa della bento box ok essendo io una malata di cucina sapete che mi piace cucinare un sacco di piatti orientali ma purtroppo mangiando sempre a casa non ho mai avuto la possibilità di avere una bento box e pensare di cucinare dei piatti e portarli fuori casa magari anche andando a fare un picnic prepararsi da mangiare mangiare fuori perché non avevo una bento box e guardate che cosa mi è arrivato da temo cosa ho trovato cosa ho ordinato questa stupenda bento box ben fatta bento box fatta con questo orsetto fatta veramente bene cioè è solidissima e proviamo a vedere all'interno ma c'è anche la fuori no vabbè questa è per la fuoriuscita dell'aria ok questa parte qua voi quando inserite il cibo schiacciate e va tipo sotto vuoto ok questa parte si toglie non so quanto spazio ok penso non ci sia troppo spazio sotto no non c'è per niente direi che questa parte con questa parte mi aspettavo di avere più profondità mi aspettavo che ci fossero più livelli ok per per inserire il cibo solo qua si può mettere il cibo perché è la stessa profondità della vaschetta a meno che non vi interessa tenere qua il cibo e potete metterlo direttamente qua dentro insomma poi sta a voi però molto utile questa perché è in acciaio molto utile anche per quanto riguarda molto comoda anche per quanto riguarda l'igiene quindi super raccomodo da lavare carina dai qua posso mettere tipo i miei sandwich di riso con il kimchi un sacco di cose carine mi ha stupito ma poi quanto è carina la parte superiore tac tac bella 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 questa voto nove e mezzo perché quel mezzo se lo sarebbe guadagnata se fosse stata su più livelli qua invece non ho idea di che cosa ci sia all'interno dai vero che ordinato la fragolona no vabbè che tenera questo è un porta oggetti porta penne porta quello che volete porta sincerità e discordia fatto in plexiglass molto solido veramente durissimo la parola del giorno sarà solido ed è una fragola semplicissimo questo ordinato perché mi piaceva mi sembrava un neon qua dentro è carino perché pensavo di metterci sempre le mie pennine colorate cercavo sempre qualcosa di di puccioso per allestire la scrivania e questo porta penne veramente carino c'è una plastichina da togliere il che mi conforta perché questa patina semi opaca non mi piace quindi sappiate che quando vi arriva se nel caso lo doveste ordinare c'è una plastichina da togliere questa è la parte appunto opaca e questa è la parte più lucida mamma mia che carino anche questo questo gli do un bel 10 perché mi ha stupito semplice però veramente molto molto carino ultimo prodotto di questo pacco questo vi giuro me lo aspettavo piccolo non pensavo fosse così grande mi aspettavo tipo un quadernetto su questi bellissimi fiori di pesco di ciliegio raga non me lo ricordavo una cartelletta separa fogli stra 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 utile per la sottoscritta non mi ricordavo di averlo ordinato boh giuro cioè non mi ricordavo fosse fatto così però è stra utile ecco perché l'ho ordinato perché volevo dividere tutte le mie cose della matrice le gli arcani cose insomma qua sono ben divisi fatto veramente anche questo molto molto bene voto 10 stra utile stra comodo tiriamo fuori un altro pacco da da questo mega pacco una matriosca di pacchi quest'inverno in freddo non mi terrà ok perché perché anche io finalmente ho ordinato fanno troppo ridere i leggings che scaldano che bello perché io vi giuro adoro mettere le gonne vestitini anche l'inverno però poi mi ritiro l'idea va in cantiere perché fa troppo freddo veramente troppo 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 queste dovrebbero simulare delle calze ok color caffè perché come vedete così hanno un colore ma appena vengono tirate si viene a evidenziare il color pelle sotto sembrerà di avere dei collant ok cioè non sembrerà di avere dei leggings colorati il fondo è fatto in questo modo quindi comodi perché potete metterli sotto al tallone e sembreranno proprio delle calze non vedo l'ora di provarli perché starò al caldo belli belli morbidi tra stra morbidi questi voto 10 li devo indossare li devo provare lo so però mi viene da dargli già un bel 10 perché il colore è magnifico e sono super morbidi e caldi quindi so già che mi manterranno proprio un calore di quelli tipo tazza di caffè calda la gilmore girls tiriamo fuori dalla matrioska gigante un altro pacco bene 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 apriamo quest'altro mi è arrivato un secondo paio vabbè raga io smatto io non ne ho ordinati due ci sarà stato un errore perché è stato inviato un secondo paio poco male perché nel senso uno per me uno per mia mamma perfetto passiamo a questo è già tirato tutto fuori da solo passiamo all'ultimo mega pacco questa invece è una carinissima borsa un passepartout che la vostra amica gloria ha pensato di ordinare perché da tutti i giorni comode però no ok che potessero tenermi dentro un po più di cose rispetto alle solite borse ma che non fossero pesanti perché tante borse sono create con tessuti pesanti no che anche da vuote pesano io volevo una borsa leggera fatta in stoffa c'è molto veramente molto scarsa no ok per poterci inserire più cose e non avere la pesantezza anche della borsa stessa quindi questa è veramente iper leggera poi molto carina perché penso che ci attaccherò come nella foto i pupazzetti per renderla un po più kawaii bella anche questa parte dei lacci un po street e la potete regolare da questa parte per tenerla a tracolla o un po più lunga insomma o a braccio come volete questa 10 mi piace fatta è fatta bene però però a voi pensavo di avere i pupazzetti che ci sono nella foto altro prodottino per la serie back to school questo fantasmagorico bellissimo astuccino mi piace tantissimo in foto mi stava facendo proprio gola e anche il pezzo qua davanti con la cordicina per questa micro tasca davanti veramente carino certo solo per le penne no come pochette anche da da borsa dove potete tenere le medicine e trucchi e quello che volete lo anche il tessuto è morbido ha fatta bene questa 10 10 e più mi piace tantissimo mi piaceva sul sito altro prodotto da inserire nella nostra borsa molto molto utile ok appena trovo qualcosa per aprirla ok potete vedere direte un'altra possetti ma questa ragazze è la possette per noi donne cioè questa è una pochette porta assorbenti geniale perché voi direte vabbè metti in un'altra pochette c'è anche ti serve la pochette degli assorbenti invece sì perché io ogni volta che metto gli assorbenti in borsa in altre pochette si schiacciano si piegano si sporcano poi le metto insieme ad altre cose quindi non stanno giusti le pochette sono magari troppo corte lunghe quindi si si sformano tutti gli assorbenti questa proprio misura d'assorbente ed è solo per gli assorbenti a questo elasticino quindi più ne mettete più li tiene e l'interno a parte questa parte morbidissima fatta coi fiorellini l'interno invece è fatto così in questo modo con questo tessutino quasi idro repellente quindi non vedo l'ora anche lei di riempirla e metterla nella mia borsa perché finalmente ho una pochette per gli assorbenti carina 10 altro prodotto oh no ci sta vabbè me lo aspettavo perché comunque essendo state spedite scaraventata a destra manca io ho una passione sfrenata per questo tipo di penne qua hanno un inchiostro bello scuro a me piace quando dalla penna esce l'inchiostro netto senza striscioline varie e queste sembrano scrivere molto bene anche all'esterno sono molto carine molto carino il disegno peccato per queste due che sono esplose male cercherò di recuperarle però insomma il resto il resto sono sei penne in totale sembrano essere integra questa è la confezione nella quale erano rinchiuse poverine io ho scelto quelle che rappresentano il latte e le pesche perché erano le più carine insomma no quelle che si avvicinavano di più i miei gusti sono da tra l'altro 0.5 millimetri guardate come ci stanno bene non sono proprio carine che cosa diamo qua mi è arrivato la cover del joystick con le zampette del gatto volevo il rosa o il bianco ed erano esauriti come me vabbè mettiamo comunque nel carrello quello che c'è quando arriva magari arriva il rosa me lo spedisco invece no il rosa non è arrivato è arrivato il giallo che però vi dirò non è malaccio perché guardando la mia postazione c'è un po di verde il giallo ci sta anche bene la vedrete anche sopra proprio al joystick che mi direte se vi piace o meno carinissime le zampine a me interessavano le zampine quindi sono contenta voto 9 perché se fosse stata rosa o bianca sarebbe stato un 10 però ben fatta devo dire ok siamo arrivati a l'ultimo paccone e vedo già una cosa che ragazzi una di quelle tante cose che mi mancava vabbè allora continuiamo il tema cancelleria perché questa cosa è stra 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 carina stiamo parlando di uno sbianchetto se non ricordo male a forma tra l'altro dei lattini tipo qua da noi ci sono gli yakult e da loro ci sono proprio i lattini di altre marche ma di un buono ma di un buono e ogni volta che vado al market asiatico me li compro poi che tenero la fragola tutto ciò che ha fragola latte pesca su di me hanno vinto no vabbè quant'è carina c'è anche questa nell'astuccino e qua c'è la parte dello sbianchetto ok un semplicissimo sbianchetto però tanto semplice non è poi si chiude rotando quindi si apre così svitando e avvitando molto molto bello mi piace un sacco questo 10 più perché è una chicca e immaginatevelo tipo nell'astuccio qua dentro scusate lo sbianchetto uno zarto a mio tiani lo so cosa abbiamo qua no vabbè un'altra borsa però di un altro colore perché come vedete sul grigio stilosissima anche lei quindi abbiamo due borse ve le faccio vedere vicine eccole qua ve le faccio vedere vicine queste sono i colori che ordinato c'è nera è un passepartout anche lei no la indossi ovunque meno eccentrica questa è un po più modaiola di questo colore la trovo un po più tecnica no un po più un po più da fighetta e anche qua non vedo l'ora di attaccarci le spillette e tutte le cosine carine stessa cosa come quell'altra super capiente con un'altra taschina interna meglio due perché se se ne spacca una che magari ci metto troppa roba ho l'altra altro prodotto un'altra medusa questa è la seconda medusa ok anche qui c'è da dargli un po la forma però in teoria si ho preso lo stesso colore hanno queste zurra e questo è color tipo bianco arcobaleno questa è un po più azzurrina erano sembrano molto simili però in realtà la cupolina cambia c'è un altro un altro colore però immaginate ve le appese quanto sono carine mi sento proprio una mermaid melody ciao sono lucia sono una sirena e nuoto tra le meduse e adesso siamo arrivati al momento che aspettavo più di tutti perché perché ho ordinato un qualcosa di tecnologico ci ho messo veramente tre giorni a scegliere quali prendere ce ne erano talmente tante tanto belle che veramente da impazzire quindi alla fine mi sono decisa e ho preso loro le onikuma sono delle cuffie professionali da gaming cosa che io non avevo perché avevo le mie beat solo che utilizzo per ascoltare la musica e basta il microfono non è neanche incorporato nelle cuffie ma devo utilizzare il cavo insomma è un po macchinoso utilizzare quelle cuffie quando si stream o semplicemente anche quando si edita e si vogliono registrare dei voice over sono andata sul semplice perfetto curiosa ragazzi apriamole caratterizzate da una cosa che cercavo stupidissimo ok perché sono molto molto superficiale in questo perché mi piacciono tutte queste cose pucciose quindi ho scelto queste perché si potevano inserire che morbide le orecchiette da gatto sopra le cuffie e le trovo stracarono queste sono in sicilone come lo dico lo chiamo io come lo chiamava mer simpson invece è silicone sono in silicone e si attaccano ok queste sono le cuffie tra morbide ma che belle col microfonino no vabbè ragazzi ma di cosa stiamo parlando questa parte qua si dovrebbe in teoria illuminare quindi isolano abbastanza certo non sono come le mie beat solo che appena le metto mi isolano tantissimo però vi devo dire un segreto vabbè che non è tanto un segreto sono sorda da un orecchio questo qua il destro non ci sento da sempre quando ero piccola e quindi essendo sorda le cuffie sono un po uno spreco per me ci ho messo tanto ordinarle proprio anche per quello che ho detto ma serve tipo una monocuffia molto carine le potete posizionare dove volete che tenere no raga sono stracarine me le immagino accese cosa che vorrei troppo provare come vedete qua sono anche elastiche quindi apposta per chi ha magari un testone si adattano perfettamente a ogni tipo di cadesa questi sono i cavi di uscita abbiamo il cavo sb il cavo jack l'altro per per appunto le cuffie quindi nel computer stanno perfettamente non le ho scelte wireless semplicemente perché non ho il wireless cioè non ho il bluetooth nella nel computer quindi dovevo per forza prenderle col cavo so che sono magari a vederle un po scomode su temo ci sono un sacco di opzioni anche wireless quindi e questa è la marca delle cuffie anche qua sempre vi lascio in descrizione vedete poi dopo si dovrebbero illuminare così vi lascio in descrizione tutti i link queste cuffie per adesso per quanto riguarda la composizione come sono fatte li do un bel 10 poi vederle a poi c'è il volume anche tra l'altro quando le vedrò accese capirò ce le proverò anche con l'audio insomma per ogni informazione appunto mi trovate disponibile come vi ho detto prima con molta educazione nei commenti se avete domande di qualsiasi tipo e niente io vi auguro una buona giornata vi vi auguro tante belle cose mangiate bene bevete tanto siate buoni responsabili portate rispetto eccetto eccetto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.